Il convegno si ocqua di tante tematiche, appunto non a caso il titolo è ampio e in qualche modo generico, dai margini al centro, quindi le tematiche possono essere quelle della donna nel lavoro, del cosiddetto gap che c'è tra le retribuzioni delle donne e quelle degli uomini, la carriera delle donne e quella degli uomini, sono state ricordate i dati anche da alcune delle interventrici e quindi quella della violenza è solo una delle tante sfaccettature, molto di attualità anche perché da pochi mesi abbiamo in Italia una legge che è il cosiddetta Codice Rosso, numero 69 del 19, proprio sulla violenza di genere, quindi anzi è una legge che va studiata e nel mio ateneo stiamo cercando di organizzare un seminario nei prossimi mesi su questo tema perché è veramente importante anche diffonderle la conoscenza. Comunque il tema della violenza è solo una delle sfaccettature, sicuramente la violenza oggi si nutre di genere, si nutre di stereotipi purtroppo non del tutto eliminati nella formazione dei giovani, l'idea del maschio più forte, la femmina più debole, il maschio che comanda, la femmina che obbedisce, stereotipi molto duri a morire e poi probabilmente si nutre anche di un diffuso senso di insicurezza, sentimento di insicurezza che pervade il genere maschile per via del fatto che hanno acquisito, sono sempre meno ai margini, sempre più al centro, quindi l'uomo che prima si trovava di fronte una donna disarmata dal punto di vista anche culturale, tendenzialmente votata alla vita familiare, alla vita domestica e adesso si trova di fronte una donna in carriera, spesso più potente di lui, spesso più avanti di lui nella carriera, più colta eccetera, o comunque non meno colta, secondo me questo genera sentimenti di grande insicurezza e fa bacillare quegli stereotipi maschili che hanno per tanti tempo nutrito e rafforzato rapporti di coppia squilibrati e quindi il rapporto di coppia va riequilibrato. Oggi è questa la funzione fondamentale che deve avere la scuola, ne sono stato detto, ne sono estremamente convinta, prima ancora la scuola che non l'università perché come dicevo anch'io all'università arrivano giovani ormai formati, quindi la scuola media, persino elementare ma sicuramente media e sicuramente liceo che devono dare questa formazione, tanto più in un mondo in cui a causa dei social networks e dell'utilizzazione mai così quotidiana e più che quotidiana degli strumenti digitali effettivamente i modelli di comportamento si diffondono con una velocità del suono e quindi tutto quello che è violenza, tutto quello che è appunto, che adesso basta vedere il tema delle armi e delle cidi che purtroppo la cronaca registra negli Stati Uniti nelle scuole. E' chiaro che un continuo utilizzo di strumenti di informazione di massa che oggi sono velocissimi e in tempo reale citando queste immagini possono costituire in qualche modo un modello che è un modello ovviamente del tutto negativo, quindi bisogna combattere anche su quello, evitare che i giovani siano troppo legati ai social networks, questo è un altro tema, ma questo riguarda non gli stereotipi di genere, riguarda tutti noi. I social networks possono avere anche effetti deleteri, di diffusione di modelli non controllata perché nessuno sa quello che mio figlio o mia figlia vede sui social networks ed è sconcertante quello che succede, io ho una figlia che per fortuna si è staccata le stesse autonomamente, prima era una dipendente di Facebook nel senso che tutti i giorni stava, come si dice oggi, connessa ore e ore, adesso la stessa mi diceva mamma non ci sto più connessa volentieri, utilizzo Facebook solo quando mi serve per mandare qualche messaggio agli amici, ma non mi va di stare connessa tutti i giorni perché arrivano messaggi di violenza e quindi è sicuramente qualcosa che anche questo va controllato, non a caso un dibattito molto forte anche in tutto il mondo è quello del controllo dei grandi del web, non soltanto per quello che possono fare diciamo in tema di violazione della privacy, ma anche i danni che possono arrecare in tema di diffusione incontrollata di modelli di comportamento negativi quindi io sono d'accordissimo su questo, è una delle sfide che oggi abbiamo davanti la regolazione dei giganti del web, quindi sicuramente c'entra molto questo discorso grazie a tutti Grazie a tutti.